amici di motosport.com ciao a tutti buon pomeriggio siamo qui con giorgio piola per un'altra chiacchierata di natura tecnica quel soggetto della settimana giorgio la mclaren mp4 2 motorizzata turbo porsche quella del passaggio dall'atmosferico ford al porsche che diede due mondiali alla scuderia di walking una macchina importante perché ha vinto 22 gran premi in tre stagioni ha cominciato a correre nel 1984 e ha concluso la lunga carriera nel 1986 è stata praticamente la trasformazione della mclaren passando dai motori aspirati ford a questo tag porsche che ha una storia tutta sua particolare sì perché praticamente la mclaren aveva commissionato il motore alla porsche per quello che sulle testate c'era invece il nome dello sponsor tag elettronica fra l'altro la mclaren aveva incorporato proprio all'interno della sua fabbrica il tutta la struttura elettronica della tag diretta da udo zucker uno dei personaggi che mi ha colpito di più in vita mia è forse stata l'unica intervista in cui durata quattro ore circa visitando tutta la tag elettronica in cui forse ho capito in tutto 20 minuti perché il resto era un livello talmente fantastico ma talmente difficile ero riuscito a vedere mi aveva mostrato tutto però veramente a un livello tale che riuscì a capire veramente poco se non quanto era l'importanza dell'elettronica delle macchine eravamo proprio all'inizio della massiccio intervento dell'elettronica nella formula 1 ecco lì c'era un aspetto curioso che il socio di ron dennis nel project for era mansur roger il titolare della tag e fu lui il commissionario di quello che fu poi il motore realizzato da hans metzger un motore particolare un sei cilindri a v di 80 gradi quindi un apertura di bancata anche abbastanza inusuale sì perché john barnard nel quando era stato definito quello che doveva essere il motore perché appunto commissionato il motore alla porsche aveva posto anche proprio dei limiti di ingombro del motore anche per esempio la posizione delle varie pompe delle vari accessori del motore erano stati voluti da john barnard proprio perché c'era già in mente la forma della coca cola che era stata introdotta già nella mclaren col motore ford e quindi c'erano stati dei vincoli ben precisi e mi ricordo anche di nuovo un altro aneddoto andamo a visitare la porsche con pino allievi e con hans metzger che era il responsabile della porsche responsabile del progetto di questo motore e nella visita della fabbrica cosa curiosa ci furono alcune stanze in cui nemmeno hans metzger poteva entrare e fu bloccato all'ingresso perché volevamo passare che ne so da un reparto all'altro facendo una scorciatoia ma in quelle stanze evidentemente c'erano dei progetti segreti che nemmeno hans metzger era autorizzato a vedere quindi possiamo dire che il il motore tag porsche è stato il primo eh disegnato e assoggettato alle esigenze di un telaio di solito in formula 1 fino a questo momento avevamo eh motori che dettavano gli ingombri e se guardiamo un po' i 12 cilindri ferrari alfa romeo i motori piatti boxer ne abbiamo una controprova eh di qualche anno prima e eh invece qui abbiamo una configurazione che arriva dettata dal dal chief designer è sicuramente un salto in avanti non posso immaginare come dei pragmatici come i tedeschi abbiano accettato questa ingerenza tecnica però hanno fatto sicuramente un grosso lavoro la prima versione del tag porsche che era siglato tte pio 1 era un 1500 centimetri cubi eh sovralimentato con due turbocompressori kkk all'inizio non aveva una gran potenza più o meno aveva la stessa cavalleria del Ford che la McLaren aveva lasciato però la cosa molto molto interessante è che aveva una gran coppia e su quello c'era il margine su cui lavorare dopodiché è nato lo sviluppo del motore e bisogna dire che è diventato un motore molto interessante e anche molto vincente su una macchina eccellente Giorgio. Sì fra l'altro anche qui ci fu il grosso impulso di Niki Lauda perché volle far debuttare spinse la squadra a far debuttare il motore anche nella seconda parte eh farlo addirittura provare a Zandvoort al Gran Premio di Olanda e poi nella parte finale eh del mondiale dell'83 proprio per prepararsi al meglio per la stagione 84 e fra l'altro la stagione 84 andrà alla storia come quella conclusa con un margine praticamente irrisorio fra i due piloti della mezzo punto. Mezzo punto sì e Lauda riuscì a battere quindi Prost per mezzo punto e poi Prost si rifece nella nella stagione successiva quindi veramente una grande macchina come hai detto tu durata a tre stagioni ma due di queste veramente di dominio praticamente totale. Qual è la caratteristica che eh rende speciale questa macchina al di fatto al di là del fatto che è stata longeva? Dicevamo prima 22 vittorie 12 nell'84, 6 nell'85 e anche 4 nell'86 quando stavano arrivando le Williams molto più evolute. Beh era una macchina molto evolute in tutti i campi e con delle soluzioni inedite in tutti i campi anche i freni al carbonio, i dischi al carbonio e poi tutta la struttura aerodinamica che era già una Coca Cola estremamente spinta d'altronde è stata proprio la McLari a introdurre questa eh soluzione. È una monoposto perfetta che poi guidata bisogna dirlo da due eh piloti non solo velocissimi ma anche molto intelligenti e che quindi avranno contribuito tantissimo allo sviluppo del motore proprio anche col loro apporto di collaudatori e qui mi viene scusa perché quando si parlano queste cose mi vengono sempre gli aneddoti al contrario successe nell'anno successivo eh quando Keke Rosberg sostituì Nicky Lauda che ci fu di nuovo un altro episodio clamoroso in questo caso clamorosamente negativo. Per voler far piacere alla nuova entry eh Keke Rosberg al collaudo al debutto in pista perché all'epoca le macchine arrivavano ai testi in Brasile pre gran premio praticamente appena uscite dalla fabbrica. Ebbene Ron Dennis invece che fare fare il debutto a Alan Prost che aveva vinto il mondiale e che quindi aveva già avuto grandi soddisfazioni ebbe la fantastica idea di farlo fare a Keke Rosberg e ovviamente come si sa l'installation lab deve essere fatto proprio al rallentatore proprio per controllare che tutto giri nel senso giusto che tutto sia perfetto. Evidente che mente Keke ha sentito la macchina molto bene nelle primissime curve e ha spinto subito al massimo e dopo quattro cinque curve adesso non ricordo esattamente il momento un gran rumore e poi silenzio totale panico nel box McLaren primo telaio completamente distrutto non si ricavò niente di quella macchina e poi mi ricordo che io all'epoca collaboravo con la personal Nardi nel fornire i volanti e Keke usava un volante molto diverso sulla Williams rispetto a quello della McLaren e John Bardad subito dopo l'incidente venne immediatamente da me e mi disse tu non devi dare mai il volante a Keke. Io con quello lì non parlo più e fu così non gli parlò più per tutta la stagione ma fu un episodio veramente clamoroso e un errore madornale da parte di Keke. Allora un'eccellente aerodinamica Giorgio grazie per questo racconto poi mi immagino Rodelli spiccato che si vede un John Barnard arrabbiatissimo e che non vuole più parlare con quello che comunque era un pilota in grado di vincere dei gran premi è incredibile. Ascolta era una macchina con ottima aerodinamica dicevamo però aveva anche una caratteristica meccanica che gli uomini della Porsche non disponevano del motore più potente in gara si parlava di 715 cavalli 800 nel giro da qualifica quando riuscivano a tirare 11.200 giri che per un turbo era tanta roba. La cosa tu hai messo in evidenza la perfetta integrazione telaio motore però ci fu un altro aspetto molto importante la Porsche che conosceva le gare di durata grazie alle 956 era molto avanti nel controllo elettronico del motore anche attraverso la collaborazione con la Bosch e nei vincoli che c'erano nel consumo di benzina di 220 litri erano forse quelli che meglio la sapevano utilizzare non avevano forse tutta la potenza però riuscivano ad avere un maggior utilizzo della potenza nell'arco dell'intera gara quindi fu un innesco diciamo virtuoso dopo le discussioni di progetto per il miglior sfruttamento della meccanica sei d'accordo? Sì e questo problema di dover stare molto attenti ai consumi non solo si sposava benissimo col discorso ipertecnico che hai fatto proprio con il legame della Bosch e tutto ma si sposava benissimo anche con la mentalità dei due piloti e di sicuro i due piloti più intelligenti i due piloti con maggior visione di tattica di gara e all'epoca appunto la tattica di gara era molto importante e fra l'altro non c'erano tutte le trasmissioni radio quindi il pilota doveva diventare l'ingegnere di se stesso l'ingegnere di pista di se stesso e quindi saper gestire la gara per riuscire a arrivare in fondo con ancora tanta potenza in modo da poter essere competitivo nel tutto l'arco della gara. Ecco nel 1984 avevamo una macchina che dicevamo raggiungeva i 700 cavalli in gara eppure i due piloti hanno lottato loro due per il mondiale. Nella stagione successiva con la MP4-2B che è stata l'evoluzione della macchina campione del mondo e costruttori c'è stata una variazione importante. Intanto c'è stato il ritiro della Michelin come fornitore di gomme e si era passati alle Goodyear, quindi c'era un approccio anche nel lavoro delle sospensioni fatto in modo eccellente da John Barnard, tant'è che la macchina rimase perfettamente competitiva. Ma il competitor di Alain Prost che divenne poi campione del mondo era stato Michele Alboreto con la Ferrari che è riuscito a stare in battaglia fino a metà stagione. E lì di nuovo abbiamo visto una battaglia molto di motori, la Ferrari quando ha cercato di compensare il rendimento tag Porsche ha cominciato a rompere turbine proprio perché avevano cambiato i turbocompressori nella speranza di colmare quel gap di potenza. Lì il mondiale è stato forse uno dei primi deciso a livello di motore, giusto? A differenza dell'84. Sì, non solo a livello di motore ma anche a livello di affidabilità meccanica ovviamente, la Ferrari per ovviare come hai detto aveva spinto persino un po' troppo sulla ricerca della potenza massima, però andando a inficiare quella che era l'affidabilità e quindi quello che era un po' tutto l'insieme della filosofia della McLaren studiata proprio a cercare di sfruttare al massimo il tutto senza rompere quello che era l'equilibrio generale della monoposta e delle prestazioni. Ecco, in mezzo c'era stato anche un cambiamento di regolamento dal punto di vista aerodinamico perché nell'84 vedevamo quegli allettoncini esterni alle paratie laterali che servivano ad aumentare il carico e invece lì furono vietati e si tornò a ali di dimensioni più normali. Eppure la situazione della McLaren rimase perfettamente competitiva anche da quel punto di vista. Sì, anche perché riusciva a sfruttare nonostante i limiti sul fondo della monoscoca, riusciva a sfruttare anche un buon effetto deportante dalla parte inferiore della monoposta e bisogna dire che quel cambio regolamentare lo apprezzai notevolmente, le vetture con quegli allettoncini messi ai lati dell'ala posteriore non erano sicuramente molto belle da vedere, mentre così diventavano più cattive e poi decisamente anche più sicure perché si arrivavano a soluzioni anche un po' troppo estreme. E parlando della McLaren mi viene in mente un'altra cosa, quella che è la mia foto della mia storia, della mia carriera preferita. quella foto in cui io sono nelle prove pre-gran premio del Brasile in Brasile all'interno del box della McLaren con la vettura campione del mondo, quindi non una di mezzo schieramento, completamente da solo, addirittura in costume da bagno perché all'epoca le sale stampe erano orribili, non c'era nessuna facility e quando uscivi dai box di Rio de Janeiro, di Jacarepaguà, c'erano delle docce e per non patire troppo il caldo noi facevamo praticamente una doccia dopo 20 metri eravamo di nuovo già asciutti e accalorati, però c'era questa simpatica tradizione e completamente da solo che schizzo con un notebook la Porsche e nessun meccanico che mi disturba e nessuno che mi dice niente. se tu pensa dovessi fare una cosa per Gime, adesso molto probabilmente non arriverei alla sera perché finirei un ospedale. Quello era la bellezza della Formula 1, bisognava rispettare certe regole, ma praticamente non c'era nessun limite all'andare, all'investigare come erano fatte le monoposte, io giravo, mi abbassavo, mi curavo, facevo tutto quello che voleva, bastava l'unica regola, non bisognava assolutamente toccarle, questo è ovvio, d'altronde c'è anche un detto che dice che non bisogna toccare, è soltanto guardare. Ascolta Giorgio, il mondiale di Prost porta Niki a ritirarsi, cosa ti ricordi di quella situazione? Racconto un aneddoto che non avrei raccontato sino a due anni fa quando c'era ancora Niki, perché è stata una confidenza che mi fece in Malesia. Niki ce l'aveva a morte con Keke Rosberg, perché praticamente lui forse non aveva intenzione di ritirarsi, però ovviamente era andato un po' a gioco a rialzo con Ron Dennis, perché avendo vinto il mondiale, avendo dimostrato di essere ancora ipercompetitivo, di essere a livello di Prost e di essere comunque tra i due o tre migliori piloti del mondo, era giustamente andato un po' a battere cassa e Keke arrivò e praticamente gli soffiò il posto praticamente a un ingaggio molto molto inferiore e di lì credo che Niki non l'abbia molto amato e molto digerito e l'ho scoperto, perché quando Nico Rosberg fece il suo debutto fantastico in Bahrain con la Williams, chiacchierando con Niki Lauda nella hall del Pan Pacific, l'albergo in Malesia dove eravamo sempre tutti, gli dissi Niki, fantastico è l'esordio di Nico sulla Williams e lo vidi che rimase un po' colpito come quasi se avessi fatto una mezza gaffe e di fatti mi risponde, sì sì fantastico, spero non abbia il cervello di suo padre e questa era una sua tipica, le sue solite risposte senza black and white, senza nessuna mezza misura, proprio perché gli era rimasto lì che praticamente gli aveva soffiato il posto. Penso che con Nico a quel punto era poi chiarito, visto che è arrivato in Mercedes, anzi lo ha trattato non bene benissimo in quello che era il confronto diretto con un campionissimo come Lewis Hamilton e Nico ha avuto l'opportunità di vincere un mondiale. No, 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 questo episodio non deve far pensare appunto che ci fosse stato qualche problema, Niki era un gran fan di Nico Rosberg e lo apprezzava tantissimo e quindi non c'è stato nessun problema, però bisognava non nominare il nome Cake. Le colpe dei padri non devono ricadere su quelle dei figli, questo è chiaro. Ascolta, facciamo ancora un salto sulla McLaren MP4-2C, quindi la versione 86, quella che tu citavi di Alain Prost in battaglia con le due Williams di Nigel Mansell e Nelson Piquet. Lì c'era stata un'evoluzione, una crescita ulteriore di potenza del motore TAC Porsche, che era arrivato a essere 960 CV di potenza in gara e oltre 1.060 in qualifica, quindi un salto rispetto alla prima versione enorme per essere stato lo stesso motore come evoluzione. La cosa interessante è che non era assolutamente più un motore parco nei consumi, cercando potenza anzi era diventato uno di quelli più assetati ed è capitato che anche Prost sia rimasto senza benzina e si sia trovato nella condizione di dover spingere la macchina per arrivare al traguardo. Sì, evidentemente si era rotto quello che era l'equilibrio, d'altronde la Williams con il motore Honda era diventata la vettura superiore in termini di prestazione alla McLaren Porsche, quindi ovviamente si era cercato di porre rimedi, ma questo non è bastato per riuscire a vincere il terzo mondiale consecutivo. Ascolta, caratteristiche che mi hanno colpito della macchina, e poi chiudiamo, ripresi gli scarichi soffianti nel diffusore, era una cosa che aveva lanciato Migeo sul Renault, però credo che Barnard abbia capito meglio la funzionalità del sistema. E poi un aspetto curioso, radiatori ai lati delle pance come tutti, con i radiatori acqua e olio inclinati in avanti, ma con i scambiatori di calore del turbo che pescavano l'aria sotto, da sotto del fondo e quindi erano come dei generatori di succhiaggio di aria e favorivano quindi la nascita di un effetto suolo o di qualcosa di simile. Difatti quando mi riferivo molto che nella perdita delle allette ai lati dell'ala posteriore la McLaren non aveva perso molto, mi riferivo proprio anche a queste soluzioni tecniche e degli scarichi soffianti nel diffusore e di questo effetto, diciamo mini effetto suolo creato appunto da questa disposizione. Tra l'altro io feci anche proprio un disegno della macchina vista da sotto che mostrava appunto questa disposizione particolare, questa presa di ingresso per gli scambiatori di calore nella parte bassa della vettura. Va bene Giorgio, credo che abbiamo vivisezionato questa macchina pluricampione del mondo, ti ringrazio tantissimo e amici di motorsport.com, commentate qui sotto, diteci cosa ne pensate e soprattutto cliccate la campanella per registrarvi al canale di modo che avrete tutti gli avvisi per i prossimi video. Ciao a tutti, ciao Giorgio, grazie di aver partecipato. Ciao ciao. Grazie.